Ciao Spinkers, io mi chiamo Elena, sono una makeup artist e beauty content creator di Spink Up e oggi vi parlerò di due prodotti del marchio Penelope Skin. Per chi non lo conoscesse Penelope Skin è un marchio made in Italy e sono molto orgogliosa di presentarvelo perché viene dalla Franciacorta, in provincia di Brescia dove abito io. I suoi prodotti sono di origine naturale e vengono realizzati con gli scarti della vendemmia dalla Franciacorta. Quindi i tralci di vite, le foglie e la buccia dell'uva sono tutti ingredienti con tantissime proprietà e vengono quindi utilizzati per realizzare i cosmetici. Il loro pack non è in plastica ma è in alluminio e quindi è 100% riciclabile. Ma passiamo alla presentazione di questi due prodotti. Questo è il Grape Serum, è un serum anti-age che agisce in profondità ed elimina le piccole rughe e rende la pelle super luminosa. Ha una texture in gel, quindi super leggera e si assorbe molto facilmente. Lo andate a applicare direttamente con le mani sul viso facendo dei movimenti circolari, non dimenticandovi anche delle colle e del décolleté. Il secondo prodotto è la Grape Cream, è una crema anche questa anti-age e pensata per quelle pelli che hanno bisogno di idratazione e nutrimento. Come con il siero potete applicarla mattina e sera facendo dei movimenti circolari fino ad assorbimento e non dimenticatevi del colle e del décolleté. Consiglio questi prodotti soprattutto a che ha una pelle secca, che ha bisogno di idratazione e nutrimento. Sono anche molto adatti alle pelli sensibili perché non contengono petrolati, siliconi, parabeni e coloranti. Quindi se questi due prodotti di Penelo Peschini vi incuriosiscono e volete saperne di più potete andare a leggere il mio nuovo articolo su Spink Up. Consiglio di Penelo Peschini